Ragazzuoli bentornati sul mio canale, io sono Laser, oggi siamo su Brawl Stars e oggi ragazzuoli si spendono i bling. Non ne ho tantissimi, pensavo di averne molti di più, ma ne ho soltanto 11.000, quindi ragazzuoli ovviamente ci andiamo a shoppare una skin epica e ora vediamo se shoppare un'altra skin epica, oppure due super rare, una rara, potrebbe essere carino così magari aumentiamo il numero di skin. Mi raccomando, io come al solito vi chiedo un bel pulizio in su per supportare il contenuto, fatemi sapere nei commenti se voi avete queste skin che sto per shoppare e mi raccomando, iscrivetevi a Tietà Campanellina per non perdere i video live e tutti i giveaway ufficiali della Supercell che sono totalmente gratuiti e tutti per voi, mi raccomando. Detto questo, allora ragazzuoli, noi abbiamo la bellezza di 11.428 bling, io so che oggi è uscita una skin, che è questa qua epica. Dov'è la skin nuova che è uscita oggi? Perché io so che c'è una skin nuova bellissima che è uscita. Questa, questa, volendo potrei, ma forse non è epica. Ah, non è epica, è super rara, ragazzi. Ma ci andiamo a prendere la skin di Angelo, ragazzuoli, ma scusate un attimo, quell'altra di Sam del circo? Dimmi che è pure qua, ragazzi, shoppiamo solo skin epica. Nooo, ragazzi, no, 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 si shoppano due skin che sono queste due e poi ci andiamo a shoppare l'altra skin che è quella dello Yeti. Incredibile, niente, ragazzi, incredibile. Quindi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti se voi avete questa skin, quest'altra skin, che questa qua è veramente tanta roba, devo dire, e l'altra skin è quella di Sam Yeti. Ragazzi, vi direi che ci shoppiamo queste tre e poi ci andiamo a fare una partita con Angelo per capire bene com'è questa skin molto bellina, perché se non sbaglio in game l'ho incontrata una volta sola. Quindi, mi raccomando, ragazzuoli, guardatevi il video e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Allora, shoppiamoci questa assolutamente. Vai, conferma l'acquisto. Bella. Devo dire, ragazzi, io già ve l'ho detto durante il Brawl Talk, sono tutte belle queste skin, sono veramente tutte belle, la attiviamo. Mamma mia, tutto ubriacone. Poi, un attimo solo che vorrei vedere una cosa, ma RT, non avevo una skin nuova, RT. Quanto costa? Ah, è mitica, no, ok, 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 non me lo ricordavo fosse mitica, perfetto. Allora, riandiamo in quelle super rare, tanta roba, ci pigliamo questa qua di Sam, circa degli errori, si chiama così? No, Sam, clown del male. Skin, ragazzi, incredibilmente bella, veramente tanta bella. La attiviamo ora, ok, perfetto. Ci resta una bellezza, ragazzi, di 5.928 bling. Quindi, purtroppo, ragazzi, non possiamo prenderci skin rare e skin epica, quindi ci pigliamo soltanto quella epica. E io direi, guardando un pochettino tutto, perché volendo ci sarebbe sempre questa che mi è piaciuta fin dal primo giorno. C'è questa che è pure tanta roba. Io ancora devo capire perché questo proprio è qua dentro, va bene, non mi interessa nemmeno. Ci sarebbe, volendo, pure questa qua tanta roba. Questa qua tanta, tanta roba. Questa qua, ragazzi, non la shoppo manco per sbaglio, perché la devo trovare, la devo trovare. Ci sarebbe pure Energenio, volendo. Però, ragazzi, ma questa... Ma cos'è sta cafonata? Ma scusate, mi perdo ogni tanto delle skin, ma se questa è il recolor suo, ma perché me lo metti qua? Ma toglilo, ma mettilo a 2.750, mettilo a 1.000 bling, non a 5.000. Ma stiamo, scherziamo. Ma dai! Vabbè, ragazzi, io direi che ce ne va a fare una bella shoppata con il Sam Yeti, che è molto, molto bella. Ma conferma l'acquisto. Tanta roba. Che pin mi dai? Pin è icona giocatore incredibile. Ora, non ci arriviamo, ok. Ci andiamo, ragazzi, ad aprire uno star drop della BSC, perché se abbiamo fortuna ci dà 100 bling. Con 100 bling ci compriamo anche un'altra skin epica, che è tanta roba. Raga! Raga, non ha fatto rumore! Eh, ho un emote, ho una skin! Eh, ho un emote, ho una skin! Ma che mega fail, hanno tolto il discorso che non fa più rumore? Ragazzi, ma scusatemi un attimo. Hanno tolto il discorso del rumore? Ah, ora l'ha fatto il rumore, infatti. Dammi i bling. Dai, mi devi dare i bling tipo subito, perché voglio comprarmi un'altra skin, per favore. Eh, gioco, gioco. Non hai capito assolutamente. Dammi i bling. 200 monete. Il gioco non ha capito moltissimo che mi deve dare i bling. Dai! Ultimo star drop, ragazzi. Ragazzi, i bling manco a calcio in test. Perfetto. Va bene. Allora, andiamo da Angelozzo nostro. Angelo? Dov'è Angelo? Angelo qua. Proviamola. C'è ancora K.O.? Iiii, però K.O. qua non mi fa impazzire. Eeeh... Oh, ragazzi, la proviamo qua, per forza. Voglio provarla in duelli. Io, ragazzi, so che la sua ulti è qualcosa di bellissimo, perché sgorga il vino ovunque, tutti ubriachi, tutti a bere tutta la vita, cose incredibili errime. Allora, dov'è il brother? Allora, se mi faccio chillare da Draco potrei anche innervosirmi. Allora, intanto il colpo non lo riesco a vedere, scusatemi. Ah, ok, vabbè, gli parte la freccia. Tipo, stile Cupido, anche se lui non è proprio Cupido. Ah, eccolo! Guardalo lì, guardalo lì, il puzzone. Brothers. Intanto lo so che sei sempre là. Ah, guardalo lì. Attenzione che è di nuovo qua, raga. Attenzione che il bro, il bro non ho capito che cosa voglia fare, se non rimanerci di sasso. Va bene, adesso c'è il kit, ragazzi, il kit è una brutta bestia, il kit, eh. Il kit è veramente brutto, perché lui si ricarica la ulti. Ah! Madonna, Madonna, il kit. Madonna, il kit. Aiuto. Ricarica, 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 ricarica. Ricarica. Ragazzi, se riesco contro il kit mi sento male. Attenzione. Attenzione che il kit è là, lo so. Il kit si sta fermando là. Non è là. Ah, kit! Kit maledetto. E io se riesco a jumpare? Nooo, ma io posso stare in mezzo, non me lo ricordavo. Che sono stupido che ho fatto il giro. Vabbè, va bene, va bene, sono un fenomeno, raga. Sono veramente un fenomeno. Attenzione che il kit è qua da qualche lato. Madonna, che liscione che ha fatto il kit. Volevo vincerle entrambe con il mitico, il bellissimo, il fenomenale Angelo, ma... Avete visto bene, ragazzi, che non è stato possibile. Questo sarà a sinistra. No. Questo aspetta soltanto... La zona... Ehm, calmati. C'è anche meno, man. Anche meno. Io me ne torno da questo lato. Ma sai a me quanto me ne frega. Cioè, io dentro la zona ti faccio divanere. Forse. Vio. Vio. Vio, adesso va a destra. Olè. Mamma mia, ragazzi, si stava ritrasformando. Io come un pollo stavo per perdere di nuovo. Allora, raga, posso dire che questa skin mi piace veramente tanto? Se mi dai qua il bling divento pazzo. No, va bene. Allora, fatemi vedere un attimo una cosa. Perché io voglio andare nel campo di prova... Perché la ulti, effettivamente, l'abbiamo vista male. Perché l'abbiamo vista mentre eravamo dentro la nube. Non è che l'ho apprezzata tantissimo. Quindi... Va, intanto con l'hyper... Ok, con l'hyper la ulti è una mezza cagata. Va bene. Ma quanto toglie con l'hyper? Madonna, 500. 156 a botta? Incredibile. Allora, fatemi vedere come è ora. Ecco, questa cosa, ragazzi. Questa cosa è fenomenale. Ma guardate quanto è bella. Niente da dire, raga. Niente da dire se non complimenti a quelli che hanno creato... Queste skin, ragazzi, di questo season sono veramente tanta roba. Voglio tanto vedere una cosa. Perché forse con l'hyper... In qualche modo... Si vede. O no? Forse no. Vediamo. Se io faccio così e mi sposto... Ah, giustamente no, perché mi segue. Quindi, ragazzi, niente. Non si vede. Va bene. Skin è veramente tanta o bella. Tanto, tanto bella. Andiamo un attimo da Sam. Giusto per... Dire, bro, adesso che ti ho comprato le cose e ti puscio, dove sei? Dov'è Sam? Ah, ma Sam già l'aveva, 750. Skin bellissima questa e skin incredibile rima questa. Infatti, ragazzi, fatemi remettere entrambe. Ragazzuoli, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate della skin di Angelo, di queste skin di Sam. Quale voi avreste shoppato al posto mio. E soprattutto, cosa importante, ragazzuoli. Voglio sapere qual è il vostro main brawler e quante coppie avete. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ricordo un bel pollicione in su, iscrivetevi su iscritti. Mi raccomando, attivate la campanellina. Andate a vedere il video che è appena apparso. E noi come al solito ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video e una nuova live. Ciao! Ciao!